E' stato fatto un gran lavoro e hai scelto di posizionare il defibrillatore nei pressi del comune? Sì, certo. C'è stata questa grandissima collaborazione fra comune e Croce Rossa proprio per cercare di dare un servizio a tutta la cittadinanza indubbiamente utile. Oggi è stato finalmente inaugurato dopo tutto un percorso di preparazione e di corsi. Come dicevamo prima con Cristina sono stati 185 i corsi fatti in Croce Rossa gratuitamente per tutti i residenti, non è poco secondo me. Anche perché è molto importante che i cittadini siano formati e possano saperlo utilizzare per qualsiasi esigenza. Assolutamente sì, questo è stato lo scopo perché più persone saranno formate e saranno in grado di utilizzare un defibrillatore in caso di necessità ci sarà sicuramente la possibilità di intervenire con velocità e fortunatamente si potrebbe anche salvare una vita che non è poco. E' stato messo al sicuro, al coperto, allarmato e con videocamera? Certo, è dentro una teca predisposta per esterno, sempre illuminata, termoregolata, allarmata ed è anche video sorvegliata perché è giusto tutelarsi sotto tutti i punti di vista. Non si sa mai rubare un defibrillatore, non è così carino però potrebbe succedere. Una donazione importante per la città di Castellamonte? Sì, sicuramente sì perché io sono nata a Castellamonte, vivo a Castellamonte, lavoro a Castellamonte da 26 anni e sicuramente questo rafforza la mia volontà di lavorare e operare in questo paese. Devo ringraziare tantissimo con l'occasione la Croce Rossa, soprattutto il gruppo di formatori e la cui vicina Cristina, responsabile della formazione perché stanno facendo un lavoro egregissimo, stanno formando veramente delle persone, delle persone laiche, diciamo così, non dei formatori, non degli operatori sanitari ma le persone comuni, a imparare a usare questo defibrillatore. Non è affatto difficile, l'abbiamo spiegato nei nostri corsi, tutti possono impararle, tutti abbiamo le mani e possiamo usarle e questo è veramente importante perché è importante avere i defibrillatori, gli strumenti ma è importantissimo chiaramente avere le persone che lo sanno usare. E questo la Croce Rossa lo sta facendo, si sta impegnando per portarlo avanti, di questo ne sono orgogliosa e fiera. Lei l'ha ricevuto in dono e ha voluto metterlo a disposizione della città? Io l'avevo ricevuto in dono anni fa dal dottor Mazzini in memoria del suo papà che era proprio mancato per arresto cardiaco a Castellamonte e quindi era un mio desiderio da tempo di poter donare questo defibrillatore alla città di Castellamonte in modo che non fosse recluso nel mio studio ma fosse a disposizione di chiunque sia in grado di usarlo. E così è stata l'occasione giusta, grazie come ripeto all'amministrazione comunale che ci ha creduto in questo progetto, grazie alla Croce Rossa che porta avanti questo discorso di formazione, grazie a tutte le persone e a tutti i Castellamontesi. In caso di necessità, un cittadino che ha ricevuto l'abilitazione come deve comportarsi? Allora, chi è abilitato può venire direttamente davanti alla teca, aprirla e utilizzare il DAE, attivando sempre il sistema di emergenza quindi chiamando l'112 e chiedendo l'intervento poi dei soccorsi. Il DAE è accessibile a tutti. Ringrazierei Daniela a nome di tutta la Croce Rossa perché Daniela è il nostro responsabile sanitario e oltre a essere il nostro responsabile sanitario, quindi a caricarsi tutti i impegni di visite, accertamenti medici di tutti i volontari è anche uno dei pochi responsabili sanitari della Croce Rossa attivi, quindi lei è regolarmente iscritta, socia e fa servizio in ambulanza insieme a noi. Grazie.